Sono inarrestabile! No! Non mi prenderei! Sono inarrestabile! Stanotte, questa schifosa città sarà purificata dalle fiamme! Sir, credo che quell'adorabile piromani sia una nostra vecchia conoscenza. Firefly. Pari che Crane abbia detto a tutti che stanotte Gotham sarebbe stata in difesa. È pericoloso, Alfred. Continua a cercare incendi. Grazie. 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 Grazie.